Il martinismo e l'ordine martinista di Francesco Brunelli Il martinismo di Luclo de Saint-Martin È vero, Saint-Martin intraprese ad un certo punto ed insegnò una tecnica differente da quella proposta dal suo maestro Martinez de Pesquenli Saint-Martin assunse inoltre un atteggiamento mistico che è stato interpretato come se fosse in antagonismo con quello di Martinez Da qui tutta una serie di grida, di discussioni, di solleticamenti umbilicali che qualificano solo coloro che l'esoterismo lo praticano a chiacchiere e lo comprendono come una cinese comprende il tedesco senza averlo studiato È tutto vero quello che si dice sia sulla via del cuore, sia sulla preghiera sia sulla critica spuntata sulle labbra di Luclo de Saint-Martin Ma è possibile che per pregare Dio occorrano tante cose? Ma per chi? E a chi si indirizzava la critica? Vi hanno mai pensato gli incolti? Si indirizzava a loro o a Martinez? Ed è bene che gli incolti sappiano quanto scrive Robert Ambalan laddove afferma a proposito della mistica Mistico o mistagogo sono due parole provenienti dal greco disegnanti l'iniziato Nella parola mistagogo ritroviamo in più il termine greco agogos che significa conducente e in effetti il prete iniziatore nei misteri greci era il conducente degli iniziati Ai nostri giorni ha assunto un senso naif peggiorativo con il termine gergale gogo La parola mistero viene anch'essa dal greco misterion da miste iniziato e disegnava l'insieme delle dottrine e delle pratiche che potevano essere note solamente agli iniziati In tal modo la mistica, terza scienza madre con l'astrologia e la alchimia per i costruttori che così bene le esprimevano nei timpani delle nostre vecchie cattedrali gotiche è l'insieme di quanto viene trattato in queste pagine Sovente viene associata la teorgia e ve ne sono le ragioni Osserveremo che questa parola deriva dal greco teos, dio, e ergon, opera Spesso gli si dà il significato di magia superiore, di tecnica, di arte che permetta all'adepto di porsi tramite la magia cerimoniale in rapporto con le intelligenze che popolano la nostra biosfera costituente la quarta dimensione Tuttavia noi preferiamo il significato che gli attribuivano i neoplatonici Per costoro la teorgia non era altro che l'insieme delle tecniche iniziatiche per mezzo delle quali l'uomo stesso era in grado di realizzare quel bascolamento del divino in sé quella transelementazione per mezzo della quale l'adepto si divinizza progressivamente In tal modo la teorgia e la mistica nella tradizione della massoneria operativa medievale non sono altro che la scienza dell'anima la conoscenza delle tecniche per mezzo delle quali questa stessa anima opera contemporaneamente la sua propria sublimazione e quella del suo sviluppo corporeo Ciò premesso e chiarito paghiamo finalmente un debito verso Saint-Martin che in realtà non ha che posto l'accento su una tecnica che il suo maestro peraltro non trascurava affatto come erroneamente si crede E tornando al maestro noteremo quale capovolgimento simpatico occorrerà fare sulle cose scritte da coloro che hanno predicato ma non praticato alcuna tecnica non parleremo di quelli che addirittura sconsigliano qualsiasi pratica come pericolosa Martinez pone la conoscenza intuitiva o via interna al di sopra di ciò che si ottiene con il concorso dei sensi o via esterna Un esempio lo abbiamo nella reintegrazione quando parla di Mosè, di Abele e più volte ancora in altre occasioni Egli dice che è per mezzo del cuore che il minore riceve le più grandi soddisfazioni e i più grandi favori che il creatore gli invia direttamente per mezzo degli abitanti della zona superceleste Il cuore o la porta d'oriente il luogo ove gli spiriti supercelesti possono comunicare direttamente è superiore all'orecchio che dà la comprensione delle leggi divine per mezzo della tradizione orale e alla porta dell'occidente o occhio E ricordiamo che il segno o il passo, cioè il risultato delle operazioni teurgiche dei Cohen ossia la comparsa sul piano del quaternario delle potenze e degli spiriti interposti tra l'operatore e la causa prima a testimonianza e a conferma della validità del lavoro si percepisce mediante l'organo della convinzione cioè mediante l'occhio La verità è che lo stesso Martinez considerava queste possibilità come privilegio di coloro che ci hanno confermato la loro realtà come una prerogativa dei saggi e forti eletti del creatore E di questi ne fa elenchi dettagliati su cui ci è giocoforza rimandare il lettore al testo della reintegrazione Per Martinez, tuttavia il minore spirituale non è affatto in grado di comunicare con gli spiriti del superceleste direttamente per la via del cuore Essi sono sia e no in grado di farlo per via teurgica C'è nell'opera di Martinez i vinclusi rituali dei grandi Cohen la spiegazione del tabernacolo con le sue quattro vie d'accesso che meriterebbe d'essere riferito e lo sarà senz'altro altrove ma c'è soprattutto questa prevalenza della via diretta cardiaca sulle altre vie su quelle stesse che egli insegnava ai suoi iniziati che non reputava affatto in grado di accedervi Questa è la realtà Saint-Martin ha compreso questa realtà ed ha tentato per lui incitando gli altri a seguirlo questa via Vi è riuscito sin dove? Noi non possiamo giudicarlo e ci asterremo comunque dal farlo Certo è che qua e là scade in un devozionismo e in aspetti degenerati del misticismo che appaiono alquanto sospetti quanto a validità di conseguimenti stabili La via del cuore quella indicata da Martinez come privilegio di pochi quella praticata e predicata da Saint-Martin come possibilità aperta a tutti resta una via ancora da sperimentare nella sua interezza di conseguimenti individuali anche se nella realtà essa ha la sua indiscussa e indiscutibile validità Sotto tale aspetto non potremmo che invitare il lettore a riflettere su quanto ha scritto il Guénon sulla simbologia del cuore rimandandolo alle sue opere e sulla significazione anche operativa della Sephira Tiferet posta al centro della croce cabalistica e sull'albero sefirotico È facile scadere in lunghi commenti in lunghe disquisizioni L'attento ricercatore saprà trovare quelle significazioni e quegli indirizzi che qui gli forniamo Questo perché qualsiasi conquista è frutto e deve essere frutto di ricerca personale Dobbiamo tuttavia aggiungere qualche cosa di più e questo è che lo stesso Saint Martin dà largo spazio alla indispensabilità nell'ascenso alle virtù e alle potenze intermedie solo che ritiene più facile più agibile che tutto il lavoro tutta l'operazione o la serie di operazioni avvenga dentro di noi Un suo commentatore anzi il suo più fedele e più sicuro interprete ai giorni nostri Amadou spiega che l'operazione del cuore avviene in un triplice modo e senso Ecco le sue parole Lavoro di conoscenza L'occhio del cuore è l'organo della scienza spirituale Lavoro d'amore Il cuore è l'organo del sentimento Ed infine Lavoro delle forze vitali interiori legate al sangue Immaginazione Parole e gesti Ed è bene qui ripetere quanto scrisse Saint Martin La sola iniziazione che io predico e che io cerco con tutto l'ardore della mia anima è quella per mezzo della quale noi possiamo entrare nel cuore di Dio e fare entrare il cuore di Dio in noi per fare delle nozze indissolubili che ci rendano amico fratello e sposo del nostro divino riparatore Il mezzo fondamentale da usare è la preghiera Fino a che si possa esclamare come lui esclamò la mia via sarà un canto continuo poiché il potere e l'amore del mio Dio sono illimitati Gli effetti di questa via lui stesso ce li ha descritti così sentirai il tuo corpo acquistare un dolce calore che gli procurerà gradualmente l'agilità e la salute sentirai la tua intelligenza svilupparsi e portare i suoi confini a delle distanze così prodigiose che resterai colpito di ammirazione per l'autore di così grandi meraviglie sentirai il tuo cuore riempirsi di gioie così meravigliose che ti faranno esplodere se esse si prolungassero per molto tempo quando Dio abita in noi non avremo da temere più gli attacchi del nemico né demoniaco né astrale né terrestre perché Egli è la forza e la potenza e perché tutte le potenze vengono ad inginocchiarsi davanti a Lui non avremo più timori né per il nostro andare né per i nostri discorsi né per i nostri bisogni perché Egli stesso si trova in tutte le cose Saint-Martin ha tracciato una sua via tecnica e pratica idonea a ristabilire il contatto della parte degradata con il tutto tecnica che come quella di Martinez è inseparabile da un'etica precisa e da un'ascesi altrettanto precisa ma non ha proposto agli uomini un fine differente da quello del suo maestro la reintegrazione e ci piace concludere con l'Amadù che fa riferimento alle opere scritte più importanti di Saint-Martin che l'uomo decaduto di cui si può dire con desolazione ecce homo deve divenire e questo è il primo stadio del suo risveglio l'uomo di desiderio le imprese dell'uomo de desiderio lo trasformeranno mediante una vera divinizzazione o piuttosto per mezzo di una reedificazione in nouvel homme in uomo nuovo la cui missione sarà di assumere in vista della reintegrazione universale il ministro dell'homme esprit questo è quanto volevamo dire su Saint-Martin sulla sua interpretazione del Cristo più cristiana di quella di Martinez sull'accentuazione della dottrina agnostica cristiana mediante l'introduzione di Sofia eccetera non vogliamo aggiungere altro sono queste questioni più idonee ai sofisti che agli iniziati l'essenza di un pensiero e di una vita non può basarsi mai sui sofismi né sulle frasi tratte qua e là per farne polemiche inutili